professore di freddi la ricerca di questa figura materna questa madre che non c'era che se n'è andata troppo presto può essere alla base di questa come dire fragilità che qualcuno imputa ad eri nei confronti della moglie di megan cioè ha cercato in qualche modo di sostituire questa figura femminile che non c'era stata ma chi lo sa certamente i rapporti tra eri e sua madre spesso sono sono patologici recentemente ho sentito appunto una dichiarazione che lui aveva fatto non so se ci sia nel libro ma sicuramente c'è nelle interviste che per far rivivere la memoria e le memorie di sua madre addirittura si è fatto dare gli stessi profumi e se le messi sulle parti intime ma questi qui credo che siano cose da psicanalisi naturalmente evidentemente è un ragazzo turbato che non è che è pieno di turbe nel senso letterale e che non ha superato il trauma della perdita della madre però io credo che ho sentito parlare prima di modernità eccetera credere che lui o megan siano più moderni di william ok e così via l'immagine che ho io per esempio è di quel cimitero che c'è a palermo dove ci sono tutte queste mummie no e di andare a chiedersi qual è la mummia più moderna lì dentro no sono sono la monarchia inglese è un caso storico no perché è un anacronismo nel nei nei nostri giorni professori in questo anacronismo megan non poteva portare la modernità secondo lei rompendo un po gli schemi lo stereotipo classico il problema della modernità della monarchia inglese non è il rapporto con la stampa o quello che fanno in famiglia che poi sono sono come tutti ovviamente no e ci sono due grossi problemi ovviamente nella monarchia il primo è che la monarchia inglese a differenza di quasi tutte le altre monarchie del nord europa che sono leggermente più moderne no benché siano monarchie e una monarchia che riunisce nella stessa persona del re il capo diciamo così dello stato e il capo della chiesa siamo ai livelli dell'iran cioè in cui il presidente no è per l'appunto una yatollah no quindi c'è l'aspetto religioso e politico che che è mischiato insieme e questo per per una nazione moderna è una cosa inconcepibile e poi soprattutto c'è una cosa che nessuno dice perché siamo distratti da tutti questi pettegolezzi appunto sulle vite personali ed è il fatto che il potere del re è un potere enorme perché tutti dicono è una figura semplicemente simbolica rappresenta la nazione eccetera niente fatto perché quando serve per esempio nel 1975 la regge santa regina elisabetta seconda ha addirittura dissolto il parlamento australiano ha fatto un colpo di stato praticamente tramite il governatore perché c'era un governo di sinistra che stava prendendo appunto delle misure di sinistra e questi hanno fatto come si appunto nei paesi totalitari di sotto il governo di sotto è certo lei dice professore tutto il potere che la monarchia può avere perché siamo un po così obnubilati dai fumi di tutti i pettegolezzi le vite private distratti a bella posta